e adesso andiamo a mettere alla prova BMW X6 equipaggiata con numerosi sistemi di assistenza alla guida ci troviamo all'interno della base militare di Ghiedi dove BMW Italia ha organizzato un test del tutto originale per mettere alla prova i nuovi sistemi che supporta lo Sport Activity Coupé X6 tutte le versioni di BMW X6 sono equipaggiate con il sistema di trazione integrale X-Drive ma la vera novità riguarda il Dynamic Performance Control è un dispositivo montato al posto del tradizionale differenziale e che garantisce un trasferimento della coppia motrice sulla ruota destra o sinistra dello stesso asse quindi vetture che già hanno l'X-Drive quindi dispositivi che spostano la coppia dalla parte anteriore al posteriore e abbiniamo adesso una coppia a destra o a sinistra l'insieme di tutte queste soluzioni garantisce un'agilità notevole della vettura le ruote interne fanno meno strada di quelle esterne allora lui decide quanta forza imprimere in più alla ruota esterna quindi gli aumenta la forza indipendentemente dalla coppia che gli arriva dal motore e funziona anche in rilascio quindi non funziona solamente col gas ma specialmente anche in rilascio ovviamente in rettilineo lui diventa un differenziale libero un sistema di assistenza alla guida completo quindi che interviene nel caso in cui le necessità lo richiedono quindi con tutti i suoi sottosistemi l'X-Drive che distribuisce la coppia motrice tra la sale anteriore e quello posteriore il Dynamic Efficient System che la distribuisce addirittura tra quelle posteriori non è un differenziale autobloccante ma il sistema aumenta o diminuisce la coppia tra le due ruote posteriori parliamo adesso di propulsori BMW X6 è disponibile già dal lancio con due motorizzazioni a benzina e due turbodiesel la novità assoluta riguarda sicuramente il potentissimo motore a benzina di 4,4 litri sovralimentato twin turbo da 407 cavalli a X650i bastano 5,4 secondi per raggiungere da 0 i 100 km orari e percorre una velocità massima autolimitata di 250 km orari Quanto costa BMW X6? Beh, intanto c'è da dire che è disponibile nelle tre versioni eletta, attiva e futura e con la trazione X-Drive il cambio automatico di serie su tutte le versioni l'unica versione a sé stante è la X6 X-Drive 50i cioè la potente motorizzazione V8 a benzina X6 è un SUV di categoria superiore, premium i prezzi partono da 52.870 euro fino ad arrivare a un massimo di 82.270 euro BMW X6, il primo Sport Activity Coupé della categoria da Nicola Piras, Formula Motori per informatori web TV è tutto